Sergio Mattarella ha giurato ieri dando vita così al suo secondo mandato da Presidente della Repubblica. Crescite e uguaglianza alle priorità del Capo dello Stato che ha ricordato anche come la guerra al Covid non sia ancora finita. In aula Mattarella ha sottolineato la necessità di riformare la giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, con senso trasversale da partiti anche da chi è all'opposizione. Contagio ancora in calo in Italia, diminuiscono anche i ricoveri nelle terapie intensive e nelle parti ordinarie. Ancora alto il numero dei decessi, 414 nelle ultime 24 ore. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno per l'Europa, siamo vicini alla fine della pandemia. Il Capo dell'ISIS, Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurash, è morto in un'operazione militare degli Stati Uniti nel nord della Siria. Il leader dello Stato Islamico si è fatto esplodere con tutta la sua famiglia durante il raid delle forze americane. Abbiamo eliminato una grande minaccia nel mondo, ha detto il Presidente Joe Biden. E scatto ufficialmente questa mattina alle 13 ore italiana a Pechino, con la cerimonia di inaugurazione la 24esima edizione dei giochi olimpici invernali. Sarà Michela Maioli la porta a bandiera azzurra, chiamata per rimpiazzare l'infortunata Sofia Goggia. Le prime finali in programma già domani mattina. 7 e 29 minuti, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Dunque 55 applausi hanno sottolineato il discorso di Sergio Mattarella, che ieri davanti alle Camere riunite in seduta comune ha giurato dando il via ufficiale al suo secondo mandato presidenziale. Numerosi temi che sono stati affrontati nel suo intervento dal Capo dello Stato, sempre nel rispetto della Costituzione, dalla necessità delle riforme alla giustizia e alla dignità alle disuguaglianze. Dall'Aula di Montecitorio gli sono stati infine tributati ben 5 minuti di applausi al termine del suo intervento. Ma facciamo il punto nel servizio di apertura. Sarà ricordato come il discorso della dignità, sostantivo che il Capo dello Stato ripete 18 volte durante il suo intervento a Montecitorio, davanti ai grandi elettori, che rispondono con 55 applausi, spesso condivisi dalle opposizioni. Così, in un'aula addobbata con stentardi e bandiere, Sergio Mattarella giura sulla Costituzione e apre il suo secondo settennato. Le sue parole toccano temi fondamentali per il tempo della politica e del Paese da ricostruire, ognuno facendo la sua parte, puntualizza. E poi richiama tutti a fornire risposte ai cittadini, fino ad invocare le attese riforme, della giustizia prima di tutto. Una nuova inattesa chiamata alla responsabilità, dice Mattarella, alla quale non posso e non ho inteso sottrarmi, per rispondere alle attese del Paese. Tutte attese, puntualizza, che sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, che avrebbero potuto mettere a rischio il rilancio del Paese. E poi un cenno alla pandemia ancora in corso, ai vaccini che aiutano la ripresa. Per il Presidente della Repubblica è necessaria la stabilità, fatta di dinamismo, di sforzo comune. La ricetta, per il Capo dello Stato, prevede il rilancio di un patto tra cittadini e istituzioni, con al centro l'Europa. E poi uno sguardo alle crisi internazionali, e dice, bisogna allontanare i pericoli di guerra, basta esibizione di forza. Inoltre il Presidente ringrazia il Governo Draghi al lavoro per superare l'emergenza, ma non è tenero sui rapporti da rivedere tra esecutivo e legislativo, sulla necessità di dar tempo al Parlamento di esaminare i provvedimenti. Forte il capitolo giustizia, tema che Mattarella è stato accusato di sottovalutare durante il primo settennato. Serve un profondo processo riformatore, perché, spiega il Capo dello Stato, per troppo tempo è divenuto un terreno di scontro, che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. Infine parla di diritti, e cita il giovane Lorenzo Parelli, morto in un progetto scuro lavoro, dignità e azzerare le morti sul lavoro, opporsi al razzismo e antisemitismo, impedire la violenza sulle donne, fermare la tratta dei migranti, rispetto per disabili e anziani, carceri migliori, libertà delle mafie, e poi un ricordo per David Sassoli. E dalle forze politiche è arrivato un consenso unanime alle parole pronunciate nell'aula di Montecitorio da Sergio Mattarella per Berlusconi. Il discorso è la conferma che si è fatta la scelta giusta. I temi affrontati sono stati una bussola, questo è il commento di Giuseppe Conte, e anche la leader dell'opposizione dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha condiviso molti passaggi dell'intervento di Mattarella. Ma facciamo il punto nel servizio. Le parole del rieletto Presidente della Repubblica raccolgono un coro unanime di consensi. La Enrico Letta, che lo battezza come il discorso della dignità, ha Matteo Renzi, che lo definisce un grande discorso, specialmente sulla giustizia, che sul tema raccoglie il plauso anche di Matteo Salvini, leader della Lega, assente ieri per Covid, ma che in seguito ha chiamato Mattarella complimentandosi per lo splendido intervento. Anche Giorgia Meloni, che non ha votato la rielezione, fa sapere di aver condiviso alcuni passaggi del discorso. Dall'opposizione anche Nicola Fratoian, di sinistra italiana, sottolinea il passaggio sull'uguaglianza. La pari dignità sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. Le disuguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita, sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita. Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, evidenzia la parte relativa a giovani e ambiente. Le parole del capo dello Stato sui giovani, sulla lotta alla precarietà e la tutela dell'ambiente, rappresentano la bussola per continuare a costruire una società più giusta, più inclusiva e più equa. Anche Silvio Berlusconi ha commentato il discorso, definito ineccepibile. E oggi, in una lunga intervista al Corriere della Sera, torna sui giorni che hanno preceduto l'elezione del Presidente e sulla sua mancata disponibilità a candidarsi. «Ho rinunciato semplicemente perché da due anni sto lavorando per l'unità politica e morale della nazione in un momento di emergenza», commenta Berlusconi. «Ho ritenuto fosse più utile per l'Italia evitare che sul mio nome si consumassero polemiche o lacerazioni inopportune». Il leader di Forza Italia dice anche di aver chiamato personalmente Mattarella, chiedendo la disponibilità ad essere rieletto. Il Capo dello Stato ha parlato, tra i vari temi, anche dell'emergenza pandemia. Gli ultimi dati degli ultimi giorni sembrano essere confortanti. Sembra affievolirsi l'incidenza dei casi di positività nel nostro Paese al punto che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che se questa tendenza dovesse continuare in Europa si potrebbe già cominciare a parlare di fine della pandemia. Vediamo. Oggi, dal rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, dovrebbe arrivare l'ennesima conferma che il virus sta davvero rallentando la sua corsa. Già ieri l'ultimo bollettino ha registrato il netto calo dei ricoveri e dei contagi. Una discesa della curva pandemica a cui non corrisponde però ancora una diminuzione del numero delle vittime, altissimo, 414. Anche se bisogna prendere in considerazione i riconteggi di Sicilia e Campania, ma come in passato sarà l'ultimo indicatore a scendere. I numeri dei decessi sono eccessivi. Chi di dovere dovrà fare un'analisi approfondita nel dettaglio, dice il direttore dell'Istituto Spallanzani, Vaia, che parla anche di una primavera di rinascita all'orizzonte e della pandemia come di un nemico che stiamo sconfiggendo. Lo dicono anche i numeri su nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, 112.000 con l'indice di positività stabile al 12,3%. Lo scorso giovedì erano oltre 40.000 in più. Una tendenza certificata anche dall'analisi della Fondazione Gimbe. In una settimana i contagi sono scesi quasi del 25%. Va meglio anche negli ospedali, dove diminuiscono sensibilmente i pazienti covid nelle terapie intensive ma anche nei reparti ordinari. Mentre arriva il parere dell'Agenzia Europea del Farmaco sulla quarta dose. Finora dagli studi clinici non ci sono prove sufficienti per supportare una raccomandazione generale della quarta dose per tutta la popolazione, invece raccomandata per gli immunodepressi. Intanto la struttura commissariale del generale Figliuola ha annunciato la distribuzione oggi in Italia delle prime 11.000 dosi di Paxlovid, la pillola antivirale contro il covid della Pfizer. E dunque se lo scenario dovesse essere confermato, anche la scuola, lo sapete, uno dei punti centrali proprio di questa lotta alla pandemia potrebbe avviarsi verso una normalità. Restano alcune perplessità per quanto riguarda la ripresa in presenza appunto con gli studenti nelle classi. Oggi proprio gli studenti scendono in piazza per manifestare contro l'esame di maturità. Ma vediamo perché. Tornano in piazza gli studenti, immaturi siete voi e lo slogan che risuonerà nelle strade di tutta Italia. A Roma il corteo nazionale partirà tra poco alle 9.30 ma sono previste manifestazioni anche a Milano, Palermo, Genova, Firenze, Perugia, Verona, Venezia e in tante altre città. Ci mobilitiamo per un esame di maturità che tenga conto di tre anni di inferno. Sì alla tesina scritta con supervisione degli insegnanti, no alla seconda prova. Il ministro Bianchi ci ascolti. Spiegano alla rete degli studenti medi che con altre sigle come OSA, opposizione studentesca d'alternativa, e la romana La Lupa hanno organizzato la protesta. La decisione delle due prove scritte arriva dopo mesi di incertezza ed è l'ennesima dimostrazione di un ministero che non ascolta gli studenti. Quando anche il presidente della Repubblica, Mattarella, nel suo discorso di insediamento, ha sottolineato l'importanza dell'ascolto di noi studenti. Vogliamo risposte dal ministro, ribadiscono gli organizzatori. Ma dopo le violente cariche della polizia di appena una settimana fa per le quali sono state presentate due interrogazioni parlamentari a cui la ministra Lamorgese risponderà nel question time di mercoledì, non si attenua la protesta contro l'alternanza scuola-lavoro che, secondo gli studenti, riduce le ore di didattica e costringe i presidi ad impegnare gran parte del loro tempo alla ricerca di aziende per la partnership. Va abolita questa commissione tra scuola-lavoro sostengono molti ragazzi ricordando l'assurda morte di Lorenzo, diciottenne travolto da una grossa trave d'acciaio a Udine, nel suo ultimo giorno di stagio. E della morte di Lorenzo ne ha parlato, ieri ne ha fatto cenno anche il capo dello Stato nel suo intervento, perché le morti sul lavoro sono davvero un dramma sociale. L'Inel ci ricorda che ci sono pensate almeno tre morti ogni giorno, sono 92 quelle che dall'inizio dell'anno di quest'anno hanno già perso la vita. Vediamo. Nessuna protezione fissa nella fustellatrice su cui lavorava Laila e Larim. L'operaia a quarantene di origini marocchini è rimasta incastrata al 3 agosto dello scorso anno nel macchinario di un'azienda del modenese che produce contenitori per alimenti. Laila non era neanche stata addestrata per l'utilizzo di quella macchina e non aveva seguito alcun corso di formazione sulla sicurezza obbligatoria per legge. Queste sono solo alcune delle pesanti contestazioni che la procura di Modena, nell'avviso di conclusione indagini, addebita ai due indagati per questo incidente sul lavoro. Il titolare dell'azienda, Fiano, 7, 86 anni, e suo nipote, Jacopo, 31 anni, delegato alla sicurezza. L'accusa è di omicidio colposo in concorso, con l'aggravante di essere stato commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, indagata anche la bombonetta SRL come soggetto giuridico. La notizia della chiusura indagini della procura di Modena, che precede la richiesta di rinvio a giudizio, è arrivata ieri, mentre il presidente Mattarella, nel suo discorso alle Camere, ricordava il giovane Lorenzo Parelli, morto in fabbrica a Trieste durante un progetto scuola-lavoro. Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza del lavoro di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita, ha detto Mattarella. Secondo i dati raccolti dall'INAIL, dall'inizio dell'anno sono già 92 le persone che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. Nel 2021 sono state 1.221 le vittime, tre al giorno. La BCE, la Banca Centrale Europea, ha annunciato che non toccherà i tassi e conferma che non li alzerà prima di aver completato gli acquisti di titoli. Ma i rischi sulle previsioni di inflazione sono orientati al rialzo. La presidente della BCE, la Garda, avverte che la corsa ai prezzi sta cominciando a intaccare i consumi e gli investimenti, rischiando così di indebolire la crescita. all'inflazione, sottolinea la numero uno della BCE, resterà elevata più di quanto avevamo previsto. E continuiamo con le notizie dall'estero, però, perché si torna a parlare dell'ISIS. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che nel corso di un blitz delle forze speciali condotto nel nord della Siria è stato ucciso quello che si ritiene essere stato il capo dell'ISIS. Ma vediamo com'è andata. Ora arriva il servizio, un attimo. La cerimonia di apertura si terrà tra poco più di cinque ore. Il problema tecnico, chiedo alla regia se possiamo vedere il servizio, oppure lo vediamo subito dopo, perché possiamo andare avanti con il telegiornale. È pronto il servizio ISIS? Sta arrivando, ecco, mi dicono, soltanto un istante di impazienza. Allora, vi dicevo, un blitz delle parti speciali delle forze americane, condotto nella notte. E allora, vediamo com'è andata. Il capo dell'ISIS ucciso in un raid statunitense in Siria non ha combattuto, ha ucciso se stesso e la sua famiglia senza lottare, nonostante gli avessimo offerto la possibilità di arrendersi e sopravvivere. Lo ha detto ieri il generale Kenneth McKenzie, capo del comando centrale, durante una conferenza stampa a seguito del raid, con cui l'esercito degli Stati Uniti ha eliminato dal campo di battaglia, queste le parole usate dal presidente Biden, il capo del Daesh, Abu Ibrahim al-Quraysh, durante un'operazione nel nord della Siria. Operazione durata due ore nel villaggio di Atme, vicino al confine con la Turchia, un'area costellata da campi profughi siriani e che ha visto il Pentagono coordinarsi con il Ministero della Difesa russo per decongestionare lo spazio aereo. Nel raid pianificato per mesi, secondo le ONG, sono morti 13 civili, tra cui sei bambini e quattro donne. Nonostante il pesantissimo bilancio, il Pentagono ha definito l'operazione un successo. Biden ha seguito tutto insieme alla sua vice Kamala Harris e al team della sicurezza nazionale nella Situation Room nei sotterranei della Casa Bianca, come fecero Donald Trump nel blitz per neutralizzare al-Baghdadi e Barack Obama in quello per eliminare Osama Bin Laden. Al-Quraysh di nazionalità irachena aveva 47 anni, era coinvolto nel massacro di molti civili appartenenti alla minoranza etnico-religiosa degli asidi nel 2014 in Iraq. Era subentrato il più noto al-Baghdadi a fine ottobre 2019. Soprannominato il professore e il distruttore stava tentando di riorganizzare il califato. La caccia al suo successore sarebbe già iniziata, siamo vigili e preparati, vi prenderemo ovunque, ha concluso Biden, rivolgendosi ai seguaci del leader jihadista. E dalla Siria vediamo però che cosa sta avvenendo anche per quanto riguarda una crisi importante che preoccupa la comunità internazionale e quella relativa all'Ucraina. In queste ore stanno arrivando in alcuni paesi dell'est migliaia di soldati americani che vengono dislocati proprio nei paesi circostanti. Intanto però si muove anche la diplomazia. Il cancelliere tedesco Scholz sarà a Washington e poi molto probabilmente a Mosca così come potrebbe fare nelle prossime ore anche il presidente francese Macron ma la Turchia di Erdogan muove le sue pedine. Vediamo come. Mediazione. È questa la parola chiave sulla crisi ucraina. A tentare di praticarla tra Mosca e Kiev sono i leader francesi Emmanuel Macron e turco Recep Tayyip Erdogan mentre fonti di intelligence statunitense rilanciano l'allarme su un'eventuale invasione russa dell'ex Repubblica Sovietica basata su un falso pretesto creato con video di propaganda costruiti ad hoc. Scenario quest'ultimo su cui Kiev si dice moderatamente ottimista e anzi per voce del ministro della difesa Reesnikov parla di basso rischio di escalation significativa grazie anche al moltiplicarsi delle iniziative diplomatiche mirate a scongiurare il conflitto armato. In quest'ottica come presidente di turno dell'Unione Europea che a suo dire dovrebbe conseguire al più presto un'autonomia strategica il capo di stato francese telefona ancora una volta ai suoi emologhi russo Vladimir Putin ed ucraino Vladimir Zelensky con Putin il capo dell'Eliseo discute soprattutto delle garanzie di sicurezza richieste da Mosca pur accusando Kiev di azioni provocatorie il numero uno del Cremlino definisce quello con Macron un dialogo costruttivo Zelensky invece riferisce di aver discusso col francese di un'accelerazione del processo di pace nel quadro del cosiddetto formato Normandia che vede allo stesso tavolo Russia e Ucraina con la mediazione di Francia e Germania per trovare una soluzione al conflitto nel Donbass da parte sua il presidente turco ieri in visita a Kiev rinnova l'offerta di ospitare un vertice che riunisca Ucraina e Russia Ankara è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi tra i due paesi amici che sono suoi vicini nel Mar Nero dichiara Erdogan ribadendo l'invito a Putin a fare tappa in Turchia a rientro della cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Pechino non importa il luogo dove possiamo porre fine alla guerra ciò che conta è che tutti siano pronti con sincerità la risposta del leader ucraino e allora il presidente russo Putin è da poco atterrato a Pechino dove incontrerà tra poco il presidente cinese Xi Jinping l'occasione però non è anzi probabilmente parleranno della crisi ucraina ma l'occasione vi dicevo è quella dell'inaugurazione dei giochi olimpici che iniziano proprio tra qualche ora vediamo la cerimonia di apertura si terrà tra poco più di cinque ore con la regia di Zhang Yimou quello di lanterne rosse ma le ventiquattresime olimpiadi invernali sono già nel pieno dell'attività è partito il torneo di curling con l'Italia già in evidenza all'interno dell'ice cube il cubo di ghiaccio sorto nell'aquatic center che nel 2008 ospitò le gare olimpiche di nuoto e ieri prima presa di contatto con la pista che domenica ospiterà la gara d'esordio del programma di sci alpino la discesa libera maschile una ventosissima striscia di neve artificiale che segna di bianco le montagne brulle tutto intorno sconosciuta a tutti poiché le gare previste nei due anni scorsi sono state cancellate per covid su cui il nostro Christophie Nerofer ha realizzato il terzo tempo di giornata il conto alla rovescia insomma è praticamente già esaurito con gli atleti che contano le ore che mancano alle rispettive gare non solo per ambizione sportiva ma anche per l'ansia da tampone perché con altri 55 contagiati dal coronavirus nella sola giornata di ieri la preoccupazione non è più solo quella agonistica ma anche forse soprattutto quella di vedere sfumare un sogno inseguito a quattro anni a seguito di un test positivo 359 finora i casi registrati nella bolla pechinese con condizioni di isolamento davvero dure il video della affranta atleta belga prostrata da tre giorni in quarantena in un covid hotel ha fatto il giro del mondo un mondo quello reale degli atleti che tra tensione pregare nuove paure sembra davvero distante da quelle olimpiadi snelle splendide e sicure promesse dal presidente cilese Xi Jinping nel messaggio ufficiale un mondo lontano anche dalla retorica del presidente del CEO Thomas Bach che in apertura della 139esima sessione ha parlato del messaggio unificante dello sport che ha respinto i fantasmi dei boicottaggi del passato con buona pace di quei paesi che hanno deciso di non inviare rappresentanze diplomatiche in segno di protesta contro le violazioni cinesi dei diritti umani nei confronti di minoranze etniche come gli uiguri e i tibetani a Stati Uniti Canada, Gran Bretagna Australia, Nuova Zelanda e Giappone ieri si è giunta anche l'India rimanete con noi tra qualche istante Patrizia Iorio ci darà tutti gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale poi torna come sempre Paolo Sottocorona con le previsioni poi c'è Gaia Tortora conduce il dibattito i suoi ospiti questa mattina Paolo Cirino Pomecino Domenico De Masi Lenia Luca Selli Gennaro Migliore poi Andrea Pancani Coffee Break Davide Giacalone Davide Faraone Emanuele De Sì Pierluigi Lopalco i suoi ospiti a tutti voi una buona giornata grazie ci vediamo domani a tutti i suoi ospiti